cari amici di youtube benvenuti in questo mio nuovo video questo sarà un video celebrativo infatti oggi il mio canale youtube festeggia 11 anni da quando è stato aperto infatti andando nelle informazioni il mio canale youtube è stato aperto il giorno 17 maggio del 2009 quindi 11 anni fa il primo nome che aveva il mio canale si era massimo 55 90 poi è stato trasformato con il mio nome e cognome massimo de bartolomeo e poi è stato trasformato a gennaio di quest'anno nel nome che ha adesso che lavatricista 82 infatti 82 riguarda proprio la mia data di nascita che infatti sono nato proprio nel 1982 e come potete avete potuto vedere in questi 11 anni ne ho fatti di video vari lavatrici registratori e varie cose che quest'anno per la prima volta ho anche ricevuto una visita lavatricistica e ho fatto anche un video anzi tre video che sono questi spettate che sono questi tre video 1 2 e 3 devo dire che è stata veramente una bella visita mi sono divertito mi ha fatto veramente piacere spero che alla fine di questa quarantena ne farò altre chi lo sa chissà come andrà a finire quest'anno anche nel campo lavatricistico campo lavatricistico anche con la mia lavatrice samsung scusate se il flash non l'ho acceso per questo video ma è per via di non per evitare di illuminare il computer e non fa che non faceva vedere bene le cose quindi ho spento il flash ma vedo che nonostante tutto si vede abbastanza bene sì dai anche senza flash le riprese vengono abbastanza bene certo con il flash si vedono molto meglio il mio canale adesso ha raggiunto la bellezza di 1070 iscritti e spero che aumentino negli anni ringrazio ancora tutti gli iscritti che si sono iscritti al mio canale in questi 11 anni di attività e per questo video è tutto vi saluto e vi mando a un prossimo video ciao a tutti e statemi bene